Musica Voi siete venuti tutti qua stasera e diciamo Ci fanno una bella risata, quattro risate, quattro canzoncine Così non pensiamo ai problemi Ma c'è, c'è Avete sbagliato Serara L'altra fase fu Fatta l'Italia Facciamo gli italiani Vai! Pronti? Vai! Vai! Papà 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 Ma avete fatto venire i gricciori? ma che pazienza, vabbè faccio un esempio, vabbè allora, tu muori, fai morire tu, no non posso morire io, ma fai tanto l'esempio, no ai fini dell'esempio è necessario che muoia tu, va bene, quindi tu muori, vai sotto terra e alimenti l'erba, passa una vacca, oh cacchio, vede l'erba, come ti vede, no, la vacca quando vede l'erba che fa? se gratta, ma che se gratta, no, che è, allergica all'erba, ma che fa? ma è la bucca pazza, ma che è? ma fa la bucca pazza, se la magna l'erba, no, se la magna, se la magna, si, ma puoi pure fumare, non è che fa, ma che se è pagato fumare? e questi che ho accennato sono tutti pezzi di fragna, e vi assicuro che non c'è l'ombra del doppio senso nei pezzi di fragna, allora permettetemi di spendere due parole sui pezzi di fragna, ma pure quattro, qui mi trovo di bravo d'accordo, spendiamo anche i pezzi di fragna i pezzi di fragna erano innanzitutto belli, poi erano puliti, tu di fatti un pezzo di fragna lo riconoscevi subito? da lontano, da lontano, subito, proprio sentivi che... erano molto apprezzati, ma pure voi, ma pure voi